Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha partecipato alla solita assemblea dei soci della Confindustria delle province di Chieti e Pescara, facendo il punto sull'industria abruzzesi. Sono specchio del Paese, dobbiamo fare conti con le potenzialità, uscire dall'emergenza, lo diciamo da tempo, siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo potenzialità incredibili sia dal punto di vista di attrazione turistica che dal punto di vista industriale, ricordiamo che siamo un Paese senza materie prime, senza fonti energetiche e dobbiamo ripartire dalla questione industriale che è la soluzione per il Paese per riportare la crescita ad un certo livello, ridurre ed eliminare i divari. C'è un'evoluzione dell'industria italiana, i mercati globali sono mercati di nicchia, i mercati di nicchia sono mercati per noi italiani, questo significa reagire nelle fabbriche italiane per posizionarci sempre più e attrarre nuovi mercati e allo stesso tempo avere un Paese competitivo perché la sfida, come stiamo dicendo da tempo, si vince come sistema Paese e non singolarmente. Da soli possiamo fare tanto ma da soli non ce la faremo. L'evoluzione dell'industria italiana, i mercati globali sono mercati di nicchia, i mercati di nicchia sono mercati per noi italiani, questo significa reagire nelle fabbriche italiane per posizionarci sempre più e attrarre nuovi mercati e allo stesso tempo avere un Paese competitivo perché la sfida, come stiamo dicendo da tempo, si vince come sistema Paese e non singolarmente. Da soli possiamo fare tanto ma da soli non ce la faremo.